Previsioni meteo per venerdì 11 dicembre. Al nord giornata stabile di imprevalenza soleggiata, nebbia in Valpadana, addensamenti sulla Liguria. Al centro avvio di giornata soleggiato, nel corso del giorno nubi in aumento sulla Toscana. Al sud ben soleggiato sulla campagna, un po' di variabilità sulle restanti regioni ma senza particolari fenomeni associati. Venti moderati, mari mossi, temperature stabili.